E di Arlette Schmidt, 55 anni, la donna svizzera tedesca dispersa dallo scorso 10 aprile, il corpo trovato questa mattina a Cannobio in un giardino in zona Casale in Lignago. A fare la macabra scoperta sono stati i padroni di casa, una villa per le vacanze. Subito sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione e il medico legale. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, ma nel pomeriggio la salma è stata identificata. Sono in corso accertamenti per stabilire la causa della morte, se si sia trattato di un decesso naturale o di suicidio. Il corpo è a disposizione della magistratura. Schmidt, originaria di Zurigo, si trovava con il marito in vacanza in un camping a Trofiume. Era scomparsa lo scorso 10 aprile. Erano stati scandagliati sia il torrente che il lago con l'intervento del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Torino.